Più o meno, quindi diciamo è un periodo un po' più caldo. Vi faccio, vi volevo presentare il capo spedizione, Alberto Della Rovere, che vi fa un saluto. Buongiorno a tutti, sono Alberto Della Rovere, il capo spedizione di questa trentatressima campagna antartica. Siamo qui con tutti i colleghi, in questo momento siamo 97 persone e stiamo anche noi preparandoci per il Natale, dove stiamo aspettando per quella tata degli altri colleghi e arriveremo a 105 persone addirittura. Quindi vi ringrazio di questo incontro, anche se è virtuale, ma ci fa sempre piacere parlare con altre persone rispetto a quelli che sono qui nella base. Spero che i colleghi riusciranno a darvi tutte le rispondole, le curiosità, le domande che ci farete. Quindi buona giornata e vi lascio ai miei colleghi. Ripasso la parola a Carla.